Ciao a tutti ragazzi, bentornati con Banana su Banana Food & Game, oggi continuiamo Quantum Break. Allora ragazzi, eravamo rimasti qui, eravamo sul tetto, dobbiamo scendere in biblioteca, Paul Sirin ci sta aspettando. Porca vacca, ci dobbiamo sbrigare, dobbiamo salvare Will, sbrigamosi, sbrigamosi, ok, vai 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 vai, ok, un attimo Jack, fai accennare, non posso un pa', non ci fa sartare qua, no. A maggior tempo raga, per questo non posso rischiare che tu mi fermi Will, non deve per forza finire così, non dobbiamo permettere. Eccolo, 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 ce l'ho fatta. Dai, dai, ce l'ho fatta, ce l'avevo 7 secondi ma io l'ho fatta. Ok, dai, dai, sbrigamosi, sbrigamosi, sbrigate, 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 salva Will, salva Will. Forza, muoviamoci, sbrigate, 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 sbrigate. Jack, mi hai salvato, bentornato. Ehi, Will, un regalante. La contromisura? Ma com'è? Lascia verde, è lunga. Jack. Will, forza. Eccola. E certo, Will, per te e per tutte e due. Ok. No, Jack, ascoltami. Ok. Se da dove vieni la frattura era ancora aperta, sistemarla ora non funzionerebbe. Moriranno delle persone, Will. Non hai visto che succederà tra qui e allora? Oh, ma tu sì. E quello che hai fatto? Hai innescato una catena di eventi che non può essere spezzata. E se anche la spezzassimo, metteremo a ripentaglio il mondo intero. Eh, eh, Jack. Abbiamo un solo tentativo. Dovamo dare ragione a Will. Conosco i rischi, ok? Allora rassegnati, Jack. Qualunque evento ti abbia portato qui era necessario. Fidati. Il passato è scritto. Ma il futuro no. Dagli, 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 dagli. Chiudere sta cazzo alle frattura, su. Dobbiamo andare. Di qua. Se la tua teoria è giusta, come ho fatto a salvarti? Ti ho visto morire, Will. Pensaci, Jack. Non mi hai visto realmente morire con i tuoi uovi. Eh, no. No, ho visto un tetto crollarti addosso. E ha creato l'illusione della mia morte. Sì. Che ti ha spinto a tornare qui affinché restasse tale. È un cerchio chiuso. Se il tempo fosse un uovo, allora... Basta metafore con le uova. A posto, Rai. Mi mancava Will. Ok, dammose, dammose. Che c'è qua? Aspetta, aspetta. Qui che è? Aspetta che se ne vadano. So che è difficile far prendere, ma il fatto che tu mi abbia salvato conservando l'illusione della mia morte, non fa che rafforzare le mie ipotesi. Il passato rimane intatto. Non lo cambia e prevale il principio di autoconsistenza di Novikov. Ok. Bravo. Dopo ti batterò il cino. C'è capito che cosa? Esatto. Prima salviamo il mondo. Forza, raggiungiamo il convoglio. Ok. Fammi andare via questi. Will, che dobbiamo fare? Will, te voglio un po' più sveglio però, eh. Bene, sono andati. Muoviamoci. Dai. Mi stupisce tu abbia aspettato. Sembri quasi darmi red. L'ultima volta che non l'ho fatto si è aperta la frattura. Dobbiamo entrare qua? Ora preferisco guidare gli ordini. Non sembri neanche mio fratello. Eh, lo so, una muovissima un po' di tutti i colori. Dai, dai, Will, dai. Dai, dai. E dai, dai, pure la cipolla diventa. Dai. Forza. Oddio, Jack. Dai, letta, Will. Non esistono eccezioni. Se tu provassi a cambiare un evento immutabile, rischieremmo di perdere tutto. Ti prego, Jack. Il nostro futuro dipende da questo. Jack, ragazzi, è troppo buono. Hai detto che la monarca ha sempre avuto la contromisura. Come? Perché? O la usava per alimentare un assurdo programma di sopravvivenza. Devono averla convertita in una sorta di regolatore di Cronon circoscritto. Lo stavo addio, guarda. Ho sempre pensato fosse Beth Wilder ad avere la contromisura, che la tenesse al sicuro. È stata lei ad avvisarmi, a dirmi di costruirla. Lo so. L'hai incontrata? Ci sta aiutando? È morta, Will. Non più. Ah, capisco. Perfetto. Merda, attento. Will, ehi. Da questa parte, forza. Che è successo? Anastasi? O c'è pull, ragazzi? Ah, no, Anastasi. C'è pure Beth qua, ragazzi. E' difficile, è difficile, ragazzi. E' difficile. A chi dare retta? Devi lasciar perdere, Jack. Un po' fa niente, so che è difficile. Devi dare retta a Will, Jack. Finita la parte 2, ragazzi. Inizia la parte 3. I stanti finali. Ok. Siamo arrivati alla piscina. E quindi ecco perché noi quando siamo arrivati abbiamo trovato questo taxi qua e non capivamo qui l'aveva portato, ragazzi, eh. Molte cose si spiegano. Anche le cose magari un po' più... meno importanti. lo so. Eri ancora un ragazzino quando ho iniziato. E poi speravo che tutto finisse senza coinvolgerti. Dai, Will. Capisco. E mo' c'hai le chiavi, eh? Non lo mo' più rampicassi da nessuna parte. E risolviamo questo casino. Dai, Will. Però, una cosa del giorno, eh. Dai, Will. Lo so. Hai nascosto la macchina qui. Ma davvero l'hai mai usata? No. Mi è bastato vedere chi ne è uscito. Era Paul. Mi ha cercato di uccidermi. Dacci sua un'altra volta. Ok, tocca aspettare a te. Cazzo. Mi ha arrugginita. Jack, una mano? Arrivo. Forza, spaccamo sta porta. Ancora una volta, dai. Ok. Apri, apri, apri tutto. Tornare al 1999. Eh, certo. Mi ha affondato la Monarch. È sfuggito alla Monarch ed è divenuto ciò da cui scappava. Will. No da matti. Costruire questa macchina è stato un errore. Dovevo lasciar perdere. Eh, se ti facevi i cazzi, tu era meglio, Will. Ti offenne, eh. Ok. E come l'avevo lasciata? Spero che funzioni. Speriamo. Già. D'accordo. Andremo nel futuro. Poco dopo il momento da cui sei partito. Ma prima che la frattura arresti il tempo. Ok, dai, Will, dai. Tutto questo mi preoccupa. Sarà pericoloso? Ovvio che sarà pericoloso. Adesso cosa non lo è? Ho sempre voluto provarla. Dai, Will. Ora la stai provando. Torniamo nel futuro. E' questo che si vede. Dai, Will. Preparati a uscire dopo il momento da cui sei partito per salvarmi. Sarà quella la nostra finestra. Quando il piano può ancora funzionare, ma prima che il tempo finisca. Vabbè, Will. Will sa tutto, raga. Pauro. La monarca e la frattura era imminente. Come se fossero esperti. Passata a bette, ragazzi. Tutto quello che sanno l'hanno rubato a me. Tu pensa a fare la tua parte e fidati. Ok, Will. Mi sembra giusto. Incredibile. Tutti questi anni. Non mi sarei mai aspettato niente del... Ok. Aspetta, Will. Ci penso. Frattura. Essordari. Dove cazzo stanno? È pieno di soldati. Datemi un attimo. Datemi un attimo. Che muove sderinata tutti, eh. Oh, avete rotto le palle. Veramente. C'era un altro qua. Ho visto. Dove stai? Ok. Headshot, ragazzi. Perfetto. Libera Will dalla stasi. Un attimo. Arrivo. 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 Andiamo, andiamo, Will. Andiamo, andiamo, andiamo. Dai. Imponiamogli le mani. Ho sconsiglio, Jack. Oh, cazzo. Non so come Will sia arrivato qui, ma... Dimenticami. Pezzo di merda! Questo è il tuo grande dì. Manca poco alla fine del tempo. Sì, lo so. Per questo esiste il progetto Arca. Un branco di disperati chiusi in un bunker chissà dove in attesa dell'inevitabile. Cazzo, Paul. Hai rubato l'RC, Jack. Io l'ho rubato, ma... Ed è fondamentale per il piano. Quindi... Me lo riprendo se non ti dispiace. Ah, sì, no, te la vai a fanculo, Will. Non so, dartelo. Ehm, Paul. Ma andate a G.P.A. di Mandova, ma chi minacci? Ok, ragazzi. Ora si combatte. Ehm, Paul, quant'hai rotto le palle, Paul. Le hai veramente sfrantumate proprio, guarda. C'è qualcosa là su, ragazzi. Perché non me ti fa usare... Dove sei andato, maledetto? Dove stai? Lassù? Che cazzo c'è? Che cos'è lassù? Che cazzo è qua? Ma che sei scemo? Ma che cazzo era quella cosa? Qua è una palla rossa che stai te engloba, mori. Allora. Ragazzi, riproviamoci. Vedete? Che cazzo sono sti cosi? Ogni tanto non mi spara nessuno, ma... Sembra come se stavo a morire. E' quella cosa rossa lassù, eh. Vedete? Vedete? E' questa cosa qua che non ci insegue. Non riesco a capire che cosa è, però, ragazzi. Allora. Ok. Quest'altra è fatta secco. Non sta sempre in movimento. Ok. Questo è andato. Via, 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 via. Sta cazzo che cosa qua. Ok. Ho capito, Paul. Non ho ruppi i coglioni. Adesso si rialza tutto come prima. Ma che cazzo è sta cosa? Ma che cazzo è sta? Ne sono arrivati. Oh cazzo. Ah, ho visto. Avranno dei quelli grossi, questi. Via, via, via. Via, 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 via. Mamma mia come me sono salvato, regà. Non lo so manco io. Devo morire. E' un attimo, Jack. E' un attimo, Jack. Te pare se è facile? So un miardo e mezzo, so. Ok cazzo, sta di tornare qua la sfera rossa. Via, 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 via. Dove state, dove state, dove state? Non vi vedo, ve lo so di colpi. Via, 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 via. Via, 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 via. Portacci vostra, quanti siete. Eccolo uno qua sotto. Regà, un casino, un casino assurdo sta cosa. E' un casino assurdo. Cazzo, io te l'avrò, io l'avevo fatta, questo. Ok. Questo è andato. Questo si è mosso, via, 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 via. Non devo stare fermo. Sono arrivati pure questi altri. Ok, regà, 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 ok, 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 ok. O che cazzo state? Che casino, regà. E' un casino assurdo. Mo' ce stanno quelli enormi. Qua, via, 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 via. Via, 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 vattene. Vaffanculo. Morire un po'. Il problema mi spaventa la morita grossi a me. Ecco te qua. Senti, ma hai rotto li coglioni tu. Guarda questo quanto me sta a rompere i coglioni. Regà, dovrei averlo ammazzato, quello. Tribolando e con una botta di culo assurda, ma dovrei averlo ammazzato. Solo che mo' non c'ho più niente per ammazzare quello. Via, 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 via. No, sto a morire. Sto a morire, non ce la faccio. Stavolta non ce la faccio. Non ce la faccio stavolta. Via, 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 via. Madonna regà, sono troppi, sono troppi, sono troppi, ma ho troppi per essere troppi. Ok. Dove sta? Dove sta quello grosso? Eccola. Vaffanculo. Ok regà, dovrei averli fatti tutti. Via, 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 ma che sei scemo. Non capisco che sta a succedere, regà. Mamma mia, regà, non ci sto capendo un cazzo. Sto scappando da una parte all'altra e basta. Via, 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 via. Oddio, 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 via, 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 di qua. Via, 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 via. dai 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 dagli al cazzotto dagli al cazzotto bravo in piena ha preso questo ragazzo è stato a scoprire sta a faà la fine del dottor Kim quello che ha stato adentrato nella stanza le sangue raga si è rotta la capoccia sbrighati, sbrighati, sbrighati vabbia Will e ricomponete sta frattura dai, dai, dai dai, dai dai, dai, dai bravo sei arrivato Will, dai devo collegare la contromisura al nucleo progettata per saturare il campo di Meyer Joyce con particelle di Cronon guarda, dove sta, oddio la macchina del tempo fa da amplificatore attiverà una reazione a catena e ripristinerà il campo sarà un evento di portata universale di chi hai bisogno? sbrighati la contromisura è scarica servono particelle di Cronon per una scossa di avviamento e tu fai al caso nostro dai carica la va no cazzo, sei ripreso Bull e calla oh ragazzi ho completato il gioco oddio non ha fatto in tempo Bull Bull ragazzi Bull è saltato si è catapultato sopra non ha fatto in tempo la contromisura aveva ripristinato il tempo ovunque la distruzione era avvenuta e le vite erano perse per sempre ma era finita oh dai 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 bravi ragazzi andiamo abbiamo salvato l'universo e si è svampato signor è morto sparito non lo so non importa Will aveva torto su tutto quanto sicuro Will la contromisura ha funzionato wow la contromisura è andata ok e calla rega ma il campo di Meyer Joyce dovrebbe essere stabile ora che è successo? certo dovrò eseguire dei test per conferma ma beh non c'è ragione di credere che la frattura sia ancora attiva che cazzo sta succedendo? che sta succedendo? wow che è successo ragazzi? non l'ho capito perché noi ecco un'altra domanda la filosofia di Paul Serin dice che il tempo è una linea già tracciata e nulla può essere cambiato allora ovviamente non eri d'accordo ma dopo tutto quello che hai visto hai fatto vorremmo sapere ne sei ancora convinto oggi? aveva ragione eh Jack ho chiuso perché gli dici è possibile alterare gli eventi tornerò a salvarti che se sono lasciati un quantum break 2 aperto ragazzi ok ragazzi è finito qui quantum break abbiamo finito questa serie spero che vi sia piaciuta a me abbastanza ci sono state delle cose che mi sono piaciute di più altre che mi sono piaciute di meno e vi saluto qui e non so adesso che serie porterò per sostituire questa anzi sapete cosa dico mi concentrerò bene su Uncharted finirò tutto Uncharted e poi ragazzi non lo so vedremo insieme che cosa continuare a portare ci vediamo ragazzi ciao belli sapevo ragazzi che continuava dopo i titoli di coda ero sicuro Jack Joyce ma non vedi questo è ancora vivo è vero che fine aveva fatto questo finalmente pensavo volessi parlare non rivivere la mia vita che cazzo sei stato il pulcro di tutto quanto comprenderai che dobbiamo sapere esattamente cosa è successo avete dato la colpa a Paul complimenti Paul Serena ha sempre fatto di testa sua lo sai bene lui e le sue illusioni hanno recato enormi danni alla Monarch ma possiamo ancora salvare questa azienda ci servirebbe uno come te questa non è più la Monarch che conoscevi possiedi delle qualità straordinarie e sappiamo entrambi che la nostra esperienza potrebbe esserti utile ci aiuteremmo a vicenda vedi ragazzi finisce così finisce così noi dobbiamo decidere se far parte della Monarch o meno ok ragazzi adesso è finito davvero ciao 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 Grazie a tutti.